L'uomo più guardato di Facebook, Maurizio Cerini! Esagera! Bene arrivato a Cordova! Sempre la solita di parte, Vetti! Bravissimi! Siamo arrivati in fondo, finalmente! Sudata anche quest'ultima speciale? Anche quest'ultima speciale, sì! Forse è stata, guarda, la più danger di tutte, perché con il discorso che si partiva a ritroso rispetto alla classifica e mescolati insieme ai gold, c'era una polvere... Eh, infatti! E' stata veramente, veramente erisica! Però, niente, io non vorrei fare più grandi cose, l'ho portata a termine, non c'è neanche il tempo che ho fatto, sinceramente, ma... Che ci importa? Mi è andata bene, ho mantenuto la mia posizione, quindi sono felicissimo! Adesso, sinceramente, non sto realizzando bene ancora... Perché secondo me? Eh, cioè, ma poi siamo entrati nel mood di questo tipo di gara, ti alzi al mattino le tre, le quattro, parto, fai due chilometri, vai, alla sera arrivi, scoppiato, ma... Cioè, sembra quasi una mini normalità, però è sempre la prima rola vita reale, però con questo bagaglio di esperienza che è una cosa... E' ricchissimo! Sì, è un'attacolata! Arrivare poi al traguardo di questa, sicuramente la più difficile degli ultimi dieci anni, grande! Quello che dicono io, la prima che faccio, quindi sto alla parola degli altri, però... Fortunatamente, dal punto di vista della preparazione, non ho trascurato nulla, quindi non ho sofferto più di tanto... E il terzo giorno non ci voleva quella cadutina, che mi ha un po' risultato più difficile, però forse mi ha anche insegnato a capire che ci vuole massimo rispetto per questa gara, attenzione, sempre, 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 perché... Il problema qui non è quando vuoi andare forte, è quando ti distrai, basta un nulla e tutto è letale, per cui... Io, così, non potevo chiedere, sono felicista! Grazie, grazie mille! Ciao!